Buongiorno a tutti, benvenuti cari telespettatori, ben ritrovati oggi giovedì 17 marzo e questa è la rassegna stampa del mattino delle sette e mezzo che chiaramente va in diretta poi con le repliche durante la mattinata. Allora cominciamo subito dal Santo del Giorno, lo vediamo perché oggi è San Patrizio, oggi è San Patrizio Vescovo, così come la Chiesa ricorda San Patrizio di Armaga appunto che è nato nel 390 in Britannia ed è il patrono dell'Irlanda e degli irlandesi nel mondo, è nato nel 390. Allora il sole è sorto alle 6 e 15 e tramonterà alle 18 e 17, vediamo subito il tempo, oggi ancora un po' di instabilità, questa mattina avremo la mattinata nuvolosa con rovesci sparsi nel settore settentrionale e nelle zone interne che però fenomeni che si esauriranno nel corso del pomeriggio. Per la giornata di domani, venerdì 18 invece vedete il tempo che torna a rasserenarsi, il cielo torna sereno con il sole che splende lungo la costa anche nell'entroterra. Per sabato lo stesso, vedete ancora più bello, ancora migliore, con temperature le minime in lieve diminuzione, le massime invece saranno in aumento, quindi avremo cielo sereno per il sabato. Però, allora, l'affermarsi dell'alta pressione determinerà un inizio della settimana prossima stabile e soleggiato in piena regola con l'arrivo della primavera e quindi potrebbe arrivare addirittura anche un po' di caldo, al sud farà molto caldo. Volete sapere come sarà il nuovo ospedale? Quello che dicono sorgerà tra Pesero e Fano, costerà 150 milioni di euro, avrà più di 500 posti letto, dovrà essere una grande struttura. Volete sapere come sarà? Volete vedere il rendering? Eccolo qua. Lo andiamo a vedere sulle pagine del resto del Carlino. Guardate come sarà il nuovo ospedale, ingrandiamo anche l'immagine. Ecco qui, vedete come sono organizzate le strutture, quindi niente più palazzoni alti come sono adesso, per esempio, come sono gli ospedali attuali, 7, 8, 10 piani, ecco tutti, vedete al massimo un paio di piani, insomma un piano 2. Questa è una delle fotografie, uno dei rendering, come si dice, ecco questo è un altro, vedete com'è organizzato, com'è strutturato, questo dovrà nascere a forso 6 ore, secondo quello che dicono, e questo è l'ultimo rendering. Poi dall'alto, ecco la mappa, vedete, i 3-4 plessi, tutta l'area di Fosso 6 ore, così come è stata progettata. Questo è l'ospedale, il progetto di Inso Sistemi presentato in regione, è l'opzione scelta per fare 512 posti letto, con 150 milioni di euro, è sul lato di Pesaro. Questa è la proposta dei privati. Il progetto Inso Sistemi è arrivato prima del 18 aprile, giorno in cui cambierà il codice degli appalti, per cui l'azienda, dice Ceriscioli, non voleva vanificare un lavoro che è stato realizzato nel corso degli anni. Chiaramente questa notizia c'è in tutte le pagine dei tre quotidiani, il Corriere, il Carlino, il Messaggero. Allora, la pagina per esempio di Pesaro del Corriere Adriatico, eccola qua, anche qui, rendering e mappa, Marche Nord, il progetto per Fosso Signore, depositato in regione dalla Inso. Ceriscioli, aspettiamo gli studi per gli altri siti individuati. Quindi non è detto che sia Fosso Signore, non è così, probabilmente non sarà nemmeno lì. Vedremo, forse Ceriscioli ha il famoso coniglio nel cappello, che tirerà fuori quando magari nessuno se l'aspetta, che ne so, vediamo. Però gli addetti, gli esperti dicono che non sarà lì. Marche Nord, ecco invece il Messaggero. Poi vedremo le reazioni. C'è il primo progetto, depositato a Palazzo Raffaello, la proposta della società Iso, che prevede la realizzazione del nuovo ospedale a Fosso Signore. Ceriscioli avverte tutti, finito il tempo delle chiacchiere, questo è un vero studio. La struttura unica Pesero-Fano costerà, abbiamo detto, 150 milioni di euro per 512 posti letto. Si potrà costruire nell'arco di tre anni. E le reazioni, dicevo. Allora, la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Sul sito dell'ospedale si ascolti la gente. Il segretario comunale del PD, Stefano Marcheggiani, ha chiesto la riunione politica di giunta per un chiarimento. Da Ceriscioli attendo uno step con la verifica dei costi per tutti i siti. Fosso Signore, per Marcheggiani la proposta è ormai superata. Minardi viola il nostro statuto, vedremo. La questione la potrete leggere sulla pagina del Corriere Adriatico di oggi. I consiglieri 5 Stelle chiedono a serie al Sindaco di revocare la delibera regionale, nella quale c'è scritto al punto nero su bianco che l'ospedale dovrà essere realizzato a Fosso Signore. I 5 Stelle dicono, il Sindaco di Fano ha ragione, in serie ha ragione, atto urgente in consiglio per sostenere con un voto unanime la richiesta al Presidente della Regione. Nei giorni scorsi appunto se aveva detto, chiederò con determinazione che venga tolta, annullata quella delibera. Andiamo adesso sulla pagina di Fano invece del messaggero, anche qui pressing trasversale sulla Regione con prove di maggioranza anomala, anche l'assessore Mascarini è d'accordo mentre si complica la situazione del Partito Democratico. È necessario che il centro-sinistra si aggiorni sugli ultimi sviluppi. È chiaro che il Partito Democratico si gioca tutto, si gioca tutto su questa storia dell'ospedale unico. Ceriscioli ha detto che va avanti senza tentenamenti, va avanti con determinazione, senza ascoltare il popolo probabilmente, però il Partito Democratico si gioca tutto su questa cosa. Ecco perché c'è tanta fibrillazione anche all'interno del Partito, anche nei confronti del Governatore. Il sindaco Seri incassa l'appoggio dei grillini nella sua battaglia di revoca della delibera sul nuovo ospedale. Poi questo è appunto quello che troverete sulla pagina di Fano del messaggero. Torniamo e vediamo le altre notizie. Questa è invece la prima pagina del Carlino di Pesaro, il club degli evasori totali. In un anno, pensate, sono aumentati questi evasori fiscali del 30%, scoperto un giro di nero, di soldi non fatturati, da 78 milioni di euro. I numeri sono da brivido della nostra provincia nel rendiconto 2015 che è stato presentato dalla Guardia di Finanza di Pesaro. Le altre notizie, andiamo sulla pagina di Fano perché c'è una sorta di novità, un colpo di scena, se vogliamo, anche sulla tragedia di Eva Minardi, la donna di 40 anni separata, che aveva una bimba piccola, ancora piccola, che il 6 marzo scorso ha deciso di mettere fine alla sua vita con la cintura dell'accappatoio dopo essersi chiusa in bagno. Il titolo dice tutto, mamma si uccise, indagato il compagno. L'ipotesi è istigazione al suicidio. I due avevano litigato anche la sera prima, come raccontano alcuni testimoni, ma come leggerete nell'articolo che troverete sulla pagina di Fano di oggi del resto del Carlino, il compagno aveva litigato più volte, insieme avevano litigato più volte. Poi ci sono tutti i particolari dettagli, non voglio svelarvi sul giornale. Invece a Fossombrone, un ubriaco, un ubriaco d'Aine Scandescenza, un 33enne di Fossombrone, poi chiede scusa ai carabinieri, chiede scusa alla città, chiede scusa praticamente a tutti, deve averla combinata grossa, questo qui, nel primo pomeriggio di sabato, sabato scorso, prima ha dato un'escandescenza in preda ai fumi dell'alcol, era ubriaco, un fradicio, e poi si è esibito in atti osceni, in luogo pubblico è successo, lo ricordo, a Fossombrone. A Calcinelli invece, un nuovo servizio POTES, cioè l'ambulanza, un'ambulanza che sarà sempre presente a Calcinelli, conterà sempre anche su un infermiere professionale a bordo, che insomma è il dato importante, sabato ci sarà questo taglio del nastro, l'inaugurazione di questa postazione, il governatore Ceriscioli sarà lì, presente insieme ai consiglieri Talè e Minardi. Adesso invece andiamo sulla pagina del Corriere Adriatico a Urbino, perché è morto uno dei ristoratori più noti probabilmente della città ducale, Claudio Amati. Eccolo nella fotografia che pubblica il Corriere questa mattina, un emblema della gastronomia urbinate, questa mattina alle 11, il funerale nella chiesa di San Francesco, aveva 59 anni, e lo ha stroncato purtroppo una breve malattia. Lascia la moglie, Gloria e il figlio Francesco. Andiamo sull'altra pagina invece, a proposito dell'altra tragedia, quella che ha coinvolto un altro giovane, Massimo Sabatini, trovato morto vicino alla siringa, si indaga nel giro delle amicizie, cordoglio per la morte di Massimo Sabatini, portalettere appassionato di calcio, era stato anche allenatore di basket a Mondolfo, ben inserito e senza problemi apparenti, domani l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria del Carmine. E il Corriere a centro pagina torna sul problema enorme, ma veramente enorme, noi facciamo finta di niente, guardiamo l'altra parte, ma è un problema enorme, quello della droga. Ce n'è una marea in giro per la città, una marea. Consumo precoce, dipendenze dissimulate, i tossicomani fanno uso vario di stupefacenti, aumentano i casi patologici seguiti dall'ex CERT. Qui ne parla Pier Giorgio Mazzoli del servizio dipendenze patologiche. La cocaina in dosi eccessive produce un arresto cardiaco, non tutti gli assuntori riescono a chiedere aiuto, e quando non ce la fanno purtroppo arriva inevitabilmente l'irreparabile, il decesso. A Marotta invece si discute sulla stazione dei treni, che è in completo abbandono e degrado, così almeno secondo la minoranza che porta in consiglio questa annosa questione della stazione dei treni di Marotta. Il sottopasso è allagato, spesso è allagato, i vetri sono rotti, le mattonelle a pezzi. Insomma non è un bel vedere quanto ai passaggi pedonali che danno accesso al lungomare. Solo due su sei sono praticamente regolari e sono a norma. A Senigallia invece la Movida e il centro storico sono in fermento. Festa per la nuova stagione di cubetti di spiaggia, vernissage della farmacia Pasquini. Domani apre i battenti l'acqua pazza e lo seguirà a ruota il Sailor Club by Marinero con lo chef Moretti. Insomma uno spot per tutto ciò che sarà da qui in avanti fino alla fine della stagione, da qui in avanti a Senigallia, la città con la spiaggia, la famosa spiaggia di Velluto. Andiamo adesso invece sulla pagina di Pesaro del messaggero, siamo quasi in chiusura. Allora qui c'è la notizia di Valentino Rossi che dice io sto bene, siamo alla vigilia del nuovo campionato del MotoGP, io sto bene, pronto a ripartire. La MotoGP ricomincia dal Qatar e con la voglia di rivincita di Valentino Rossi. E poi sulle pagine interne, anche qui abbiamo visto il progetto di Marche Nord e poi invece Sprecopoli, la guardia di finanza che indaga, indaga, indaga e ha scoperto dipendenti e amministratori che spregano soldi, un consultivo di fine anno, sono in aumento i reati tributari, il colonnello Raimondo dice e parla di illegalità economica che non arretra. E poi l'ultima pagina abbiamo visto anche quella di Fano con l'ampio spazio dedicato all'ospedale unico, ma si parla anche di interquartieri che sono in direttura d'arrivo, finalmente, se ne parla veramente da dieci anni, più forse, stretta sui cantieri esistenti con inevitabili disagi alla viabilità, ma a questo punto dei disagi ce ne facciamo una ragione tranquillamente, visto che appunto, come dicevo, sono ormai tantissimi gli anni che parliamo di questa arteria che ormai è dentro la città che finalmente si sta per concludere, anche perché sono arrivati i soldi che prima non c'erano per quel famoso famigerato patto di stabilità che non si poteva sbloccare, oggi invece i soldi ci sono e quindi si fa quello che si era dovuto fare negli anni passati. Ciclabile, Fano Fenile, il nodo del Cavalcavia invece, il Presidente della Provincia si farà promotore di un incontro per trovare una soluzione. Questo e altro troverete sui giornali questa mattina nelle vostre edicole di fiducia, quindi noi ci fermiamo qui, questa sera c'è il telegiornale, Occhiala Notizia come sempre alle 20.30 e poi c'è il sito internet Occhiala Notizia.it invece per gli aggiornamenti in tempo reale. Grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di una buona giornata.